Appuntamento da non perdere in diretta con la nostra emittente TeleSondrio News per tutti gli appassionati di bocce. Questo weekend seguiremo il via della 31esima edizione del Gran Premio Valtellina, il torneo di bocce organizzato dalla bocciofila di Sondrio del maestro Lageri, sempre in prima fila nell'organizzazione di uno dei tornei più importanti, non solo a livello locale, ma persino nazionale. Nella tradizione, perché il trofeo Valtellina è sempre stata una gara con partecipazione di giocatori di A1 e di A, quest'anno abbiamo inserito anche la gara del sabato, il trofeo Vergottini che è una seconda edizione, con giocatori di A1-A. Questo, diciamo così, qualifica meglio la gara, anche se poi viene ridotta nel senso dei campi, perché a coppia sono stati fatti nove campi, ma tutti di categoria A1-A, tanto come il Valtellina, che invece sono 21 campi. Un evento che richiama migliori giocatori da tutta Italia. Abbiamo giocatori, quali Benedetti, dall'ambiente delle bocci che tutti conoscono, Benedetti, Paleari, Signorini, Balboni, Usini, tanti, 8 o 9 giocatori di categoria A1 o ex giocatori di categoria A1, quindi sono tutti dei campioni. Poi dobbiamo aggiungere anche i nostri, i locali, da Vertolatti, Marco Adoni e Massimo Adoni, che è una promessa, è giovane e si sta presentando molto molto bene. Saranno 74 le coppie in campo, 160 invece i giocatori individuali. Uno spettacolo da non perdere, anche perché in azione ci saranno notti atleti stranieri. Per questo la bocciofila ha deciso di poter rendere fruibile a tutte queste sfide, che si preannunciano sicuramente entusiasmanti, trasmettendole sul nostro canale 172. Vogliamo far conoscere questa gara e permettere a chi non può venire direttamente alla bocciodromo e poterselo godere in poltrona a casa.